A due mesi dall'ultima partita disputata, il ritorno in campo della Promobol non regala sorrisi. Peschiera si impone 3-0. Oroting, Peschiera, Promobol, Sanitars, Gussago 3-7-0. 25-23, 25-17, 25-19 i parziali. Ovviamente gara a porte chiuse. Siamo a Ponti sul Mincio, che la serata non sarebbe stata di quelle semplici, già lo si sapeva. In primis per l'avversaria di giornata della Promobol e poi perché quest'ultima era reduce da uno stop più che prolungato. E i due mesi di fermo si sono fatti sentire non poco, anche se le tigri biancorosse hanno fatto del loro meglio per arginare avversarie e condizione fisica. Gioco forza non ottimale. Purtroppo la decima giornata di campionato di B2, la terza effettivamente giocata, visto la Promobol, Sanitars, Gussago uscire sconfitta per 3-0 dalla trasferta sul campo della capolista Oroting, Peschiera. Portatasi sotto rete con il sestetto composto da Izzo, Gasparini, Ferrari, Salvetti, Ducoli, Piantoni e Pecalli, la squadra guidata da coach Taramelli si è ben disimpegnata nel corso del primo set, segnato praticamente per tutto il suo volgere dall'equilibrio. Di fatto, dall'inizio alla fine, le due formazioni sono sempre rimaste francobollate, giocandosi quindi punto a punto la frazione. Giunte sul 23-23, il guizzo decisivo è stato trovato dalle padrone di casa che, difesa una paletta insidiosa di Gasparini, hanno messo palla a terra sul contrattacco. Quindi si sono prese il periodo capitalizzando il primo set point. Chiamata a recuperare la Promobol ancora sul rettangolo di gara con il sestetto iniziale, ha avuto un avvio incoraggiante, ma sull'1-3 con cui ha aperto la frazione, è stato presto annullato dal break di 5 punti di peschiera, che poi ha spinto sul 6-4. Sebbene coach Taramelli abbia provato a rallentare le avversarie, chiamando il tempo, problemi di ricezione unitamente a un blocco che è proseguito per le sue ragazze, hanno fatto sì che l'Oroting spingesse sull'acceleratore e si portasse sul 17-12. Il tecnico Biancorosso ha tentato allora di mischiare un po' le carte, inserendo Bertoletti per Salvetti prima e Valzelli su Ferrara e poi, così da alzare il muro. Ma è stata ancora la capolista a fare l'andatura. Non bastasse, ci si sono messi anche i troppi errori, così il 2-0 per peschiera si è concretizzato presto con il punteggio di 25-17. E nel set a seguire è arrivata la vittoria per le padrone di casa, subito aggressive sul 3-1 e poi brave a scrollarsi di dosso una promoball che pur ha provato ad aggrapparsi alle spalle avversarie, il tentativo ha retto fino al 13-10. Poi l'Oroting peschiera ha alzato il ritmo con un attacco sempre più difficile da contenere ed è andata a prendersi i tre punti chiudendo il parziale per 25-19.